Salve amici del Centro Meteo Italiano. Settimana che precede Pasqua che inizia con clima freddo e neve a bassa quota. Vediamo però la tendenza aggiornata. All'inizio della prossima settimana minimo al suolo verso la Grecia e arrivo di ulteriore aria fredda, questa volta di estradizione artica. Temperature in calo con valori anche di 6-8 gradi sotto media e possibilità di neve a quote basse sui rilievi. Nella seconda parte della settimana ancora tempo instabile e clima freddo per il modello americano GFS. ECMWF propone invece una graduale espansione dell'alta pressione verso il Mediterraneo con un miglioramento meteo in vista di Pasqua. Seguite allora come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.